Ma tu chi sei? Sono Megan, la babysitter di Anastasia Ma Megan, la babysitter di Anastasia Ma dov'è Anastasia? 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 Vieni Anastasia Anastasia non avere paura Lei è brava E Megan, la tua babysitter Sei contenta? Posso andare via? Posso uscire? Finalmente ma chi l'ha chiamata? Chi è che l'ha chiamata questo babysitter? L'hai chiamata tu? No L'hai chiamata tu? No? Ok, chiediamo lei allora Da chi è stata contattata? Chi ti ha chiamata Per venire a fare la babysitter di Anastasia? Non te lo ricordo Ragazzi cucciolini Mi sta dicendo Io l'ho chiamata Per fare la babysitter di Anastasia Cosa sta facendo? Megan? Megan? È ora della merenda Comunque ragazzi cucciolini Io non ho chiamato nessuno Non so da dove arrivi questa qua Comunque Se vi ricordate Nel video precedente Lei aveva trovato Lei non lei 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 dove va? Vanessa Aveva trovato una bambola un po' strana Ma che effettivamente gli assomiglia molto E di colpo è diventata quella bambola Quindi credo che sia Però allora Cucciolini e cucciolini Benvenuti nel nostro canale Questa babysitter è un po' strana Oggi Cosa sta facendo? No 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 Certo che mi fai male Allora Chiediamo Chiediamo Anastasia Vieni qua Non avere paura Io credo che voglia giocare con te Vero che vuoi giocare con Anastasia Perché tu sei la sua babysitter Vero? Io Non voglio stare qua E dove vuoi andare Megan? Io non posso stare Cosa? Cioè io faccio questa film Me ne devo andare? Ok Va bene Cucciolini e cucciolini Megan non mi vuole Vuoi soltanto Anastasia? Sei la babysitter di Anastasia Quindi Io posso andare? Vado Su Esco Vado a fare un giro Dove va? Investita da macchina Investita da una macchina Eh Cucciolini ho paura Questa mi vuol far fuori Aiuto Allora io Sì Aspetta Cosa aspetto? Dove va? Attenzione Aiuto Me zini che adesso vende La merenda Un limone E se lo mangio? Mi vuoi bene? Oddio mio Ma scusa Allora Cucciolini Ma non era la babysitter di Anastasia Cosa vuole da me questa qua? Megan Ascolta Io posso andare se vuoi Non ti preoccupare Io Vado Adesso Ti pone l'acqua Anastasia E Vanessa sotto il cattesimo E non lo so Dobbiamo Dobbiamo farlo rinventare normale Però adesso questa mi odia E io non posso esagerare Aspetta 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 Un bere Eh sì Dimmi Un bere Acqua e limone Ma poi non faccio La cucchina Fai Va bene Dove sei? Poi però posso andare Vedi Che schifo Ma cosa c'è qua dentro? Il limone è scaduto È scaduto? Ma tu mi vuoi far fuori Fare slime Slime Cattivo Che schifo Non avevo nessuna intenzione Di fare slime cattivo Slime Sei non tu Ok Ascolta Perché avete Scaduto Ma che Ah Gioca con Quei giochi Del gatto Che 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 A me No 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 Ascolta Anastasia È qua Ascolta Lei È qua per te Quindi tu adesso Devi andare Niente Dicendo che Quell'acqua e limone Era buonissimissima Deve avere i pidocchi Vedo che ha dei problemi Con i capelli Ascolta Tu Adesso La devi Vieni qua La devi distrarre Io devo Capire Cercare di capire Hai Scusa Non Io No Vieni qua Vieni qua Vieni qua Perché mi dice Di non fare Slime Ma cos'è Cosa vuol dire Mi ha tirato i capelli Giuro che se ritorno Vanessa Distrappo tutti i capelli Ascolta Allora Ok Ballo Famiglia Mio Sei bravissima Oddio Esorcista Esorcista È dentro questo corpo Esci da questo corpo Esci Esci da questo corpo Ah Meno male Sei uscito Allora Ascoltami un attimo Megan Megan Dimmi Megan Megan È sorda Anastasia Megan È sorda Si vai No Lei 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 Giuro Lei Tu via Ok Io vado Anastasia Voglio bene Adesso Ciao Megan Amore Anastasia Anastasia di giocare a scambino di non andare qua perchè c'è chi è di chi è aiuto mi auguro dove c'è l'abbi Anastasia non fare casino Ania non fare casino ascolta lasciala qui scusa arrivo non c'è Anastasia Anastasia hai sentito cosa dice di non fare lo slime ma perchè perchè non vuol dire se facciamo lo slime lei ti è più normale più normale di Vanessa perchè Vanessa è normale non c'è Anastasia vai a cercarla da un'altra parte ok senti Anastasia dobbiamo capire cosa fare capito vai vai nascondi aspetta ok così fai silenzio fai silenzio vieni ecco era questa la porta sei un po' sturdita come no nel senso sei non serve a me questo che devo fare le pulizie dove non c'è Anastasia vedi Anastasia non c'è qui c'è cacchina di gatto Anastasia no ma no scusa questo non mi serviva per pulire oddio senti sì sì va bene se la trovi me la saluti no grazie molto gentile ma una babysitter un pochino più carina che sei hai no no va bene non fare slime no me lo segno eh ma me lo segno sì senti ma non è che per caso hai sonno vuoi fare un riposino no perfetto la signorina dei no Anastasia guarda il campo caspe Anastasia è uscita sì 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 Anastasia è uscita senti ascoltami Anastasia ascolta un attimo ascoltami ascoltami Ani ho chiuso ma mamma no adesso secondo me non arriva più perché ti starà cercando è un po' antipatica e continua a dirmi no ogni cosa no e mi dice continua a dirmi non fare slime ma che vuole io faccio tutti gli slime del mondo eh col gatto sì c'è il gatto guarda qua è il gatto è il gatto eh sì va bene ti apro subito aspetta ciao hai visto che c'è il gatto come scusa è brutto non è vero è bello guarda che occhi azzurri guarda i tuoi invece che brutti che sono oddio oddio no 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 chi hai visto ma va tu sei stata programmata male vedi le cose è bellissimo il nostro gatto Ascolta Se tu non mi dici dove è Anastasia Anastasia no Anchina Non ti faccio nulla Ma Mi devi dire dove Anastasia Che cosa gli devi dire Ascolta state gioco E visto ci vuole bene lui Ehi no Allora ascolta Anastasia si è nascosta Perché state giocando a nascondino La devi cercare Dove Non è lei No ma lei è brava no Non eravate amiche voi due Mamma mia che brutta Bella faccia Non sapevo che c'era Vieni con me basta Devo dirti una cosa Trattala bene Io faccio le pulizie Adesso Mi sembra più che la bambola cattiva A me sembra la signorina Rottermeier Te la dici se credi ti voglio di là Ma chi si crede di essere questa qua Giuro che se torna in sé E le faccio pagare tutte Ani Mi apri Grazie Eccomi Mette mamma mia C'è il torcicollo Eccomi E allora io Devo pulire la casa emotion Congganci Meg il mio Puende pulire tu la casa Sei stata programmata Sììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì же da quella fare buona No, 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 lei no. Tu vuoi sì? Rip, ok? Rip, ma mi sta minacciando la tua babysitter. 8 mole. 8, 10. Sì, ma io contare è spagnolo, quindi 10. Sei spagnola, di origini spagnola. No, strano che tu dicessi sì, perché non ti ho ancora sentito di errore. Sono il pesce. Chi sei? Io sono il pesce. E se voi fate slime, devo andare in bagno. Dove hai lo bagno? Vai in bagno, in bagno dove sei entrata prima? Sai prima, si corri, 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 corri. Ciao, 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 ciao. Anastasia, dobbiamo fare lo slime. Moviti. Ascolta, aspetta, Anastasia, è tantissima. Eccola, ciao. Che carina. È fatto già tutto? No, cartigenica mancante, viscica mia sta esplodendo. Eh, cartigenica, trovare cartigenica. Vuoi andare nel bagno sopra? Sai, Megan, sopra ci sono tanti bagni. Vai. Ma, trasni, trasni. Ciao. Anastasia, è tantissimo che non facciamo slime. Io non so più neanche dove sono tutte le ciotole. E secondo me non ci sono più. Dobbiamo, dobbiamo trovare... Ecco, guarda, prendi questa, vai. Va bene, va bene. Prendi questa. Tanto se esce... Ti ricordi come si fa? Io non mi ricordo niente. Tieni, tieni. Com'è che si faceva? Faccio io, tu prendi. Io so come si fa, tu prendi. Anastasia. Anastasia, devi essere velocissimo perché questo arriva subito. Quanto ci vorrà? Ciao. Cosa vuoi? Niente, il gatto ha fame. Non sembra. Stiamo preparando da mangiare. Ok. Senti, mi raccomando, dove vai? Vado a lavarmi i mani. Vuoi riusarli? No, 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 non ci credo. Vai, 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 vai. Ciao, ciao. Vai, muoviti. Vai. Che spiola questa bebesetta. Ani, ma no, così, mettile questo. No, prima devo mescolare. Con questo? No, vado dopo. Che cosa? Vetti ancora. Cosa devo fare? Ma io non mi ricordavo che si faceva così. Sei sicuro che questo mi affazza? Se scopre che stiamo facendo lo slime mi ammazza. Mi ha detto che mi toglie la testa dal collo. Pauro. No, tranquilla. Se io ci penso io. Vado? Basta. Poi? Bicarbonato? È giusto? Sì, ma. Aspetta che non riesco. Me lo apri? Non riesco. Senti, ho paura Anastasia. Hai che sai di vista cosa mi ha detto prima? Ma... Ok. Aspetta, quanto ne metto? Dove? È a sassi? Prendi un pezzetto. Te l'ho detto. È tantissimo. Ma lo facciamo lo slime. È diventato tutto duro. Devi sbriciolarlo benissimo. Senti, Anastasia. Ma usa le mani. Ok. Dai. Usa le mani. Anastasia, devi essere velocissima. Tira nessuno questa mani qua. Tirami su, è un dolce che a me piace tantissimo. Dai. Dai, Ani, su, su, su. Metti ancora bicarbonato, non preoccupare. Devi mettere... Cosa devo mettere? Cosa devo mettere? Cosa devo mettere? Vai, messo. Sta uscendo. Mi meno, sì. Va bene? Sì, metti. Bicarbonato. 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 Vai. Ti prego. Se non esce. Come non esce? Se non esce, sono destinata a morire. Non esce, non esce. Non esce. Non esce. Non esce. Non esce. Vuoi ancora un po' di bicarbonato? Sì, è un liquido. Anche liquido? Poco, poco liquido. Vai, 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 vai. È uscito? No, carbonato. Carbonato, carbonato. Sì, è un liquido. Carbonato. Dai, Anastasia, ti prego, ti prego. Allora, ancora un po' di carbonato. È uscito? Sì. È uscito? Fammi sentire. Fammi sentire, voglio essere... Sì. Brava, Anastasia, vatti cinque. Vatti cinque. Dobbiamo andare a vedere se se n'è andata questa bruttissimissima babysitter. Ok, ragazzi. Adesso, mamma, diciamo tutto su che se... Lei... Vai, ma... Sei tornata, Vanessa? Non si arrabbia. Anzi, a lei piaceva tantissimo fare gli slime. Magari gliene facciamo fare uno. Io spero che sia davvero tornata. Andiamo a vedere se c'è Vanessa. Eh? Andiamo a vedere. Ok? Vanessa! Ciao, Vanessa! Ciao, amore! Ci sei mancata? Eh? Come stai? Bene. Che cosa c'è? Ah, sì, sì, è Vanessa. È tornata Vanessa. Dove sei andata? Che bella, che stai facendo? Una slime, amore. Eh, come ai vecchi tempi, ricordi? Quando facevamo gli slime. Ma ti piace fare gli slime? Sì. Ah, meno male. Vieni. Tutto ok? No, siamo felici perché abbiamo fatto... È lunghissima la storia, te la raccontiamo un altro giorno. Te la raccontiamo un altro giorno. Un altro giorno, sì. Te la raccontiamo un altro giorno. Senti, Vanessa, la vuoi una babysitter? No. Tu la vuoi una babysitter? No, grazie. Volete la vostra mamma? Sì. Ma secondo te sono brava? Sì. Benissimo, allora cuccioline e cuccioline. Scrivetevi nel canale. E se dicevi un video? Eh, così. Avevo la fotocamera tra le mani. Sì, sì, abbiamo iniziato il video adesso. E abbiamo detto che avevamo comprato le colle, ti ricordi? Che quando siamo andati a comprare i regali per la tua comunione, Anastasia ha scelto tante colle, quindi... Quanto dormito? Tantissimo, guarda, ma hai fatto anche qualche sogno strano? Ti ricordi di aver fatto qualche sogno strano? No. Ma assolutamente no. No. No, guarda, è tutto il penone. Quindi niente, facciamo lo slime, salutiamo i nostri cucciolini e... Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Aspetta, però visto che hai detto se volete una babysitter, scrivete nei commenti se volete che adottiamo una babysitter, no? Ok, ciao! 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 Grazie a tutti.